ciao e bentrovata sul canale parliamo spesso di illuminante ma lo sai come si deve mettere in realtà non c'è una vera e propria teoria o regola generale perché dipende da diversi fattori primo tra tutti la forma del viso secondo voi anche le tacche abbiamo perché l'illuminante può andare ad enfatizzare delle zone o comunque anche la grana della pelle che spesso potrebbe non essere il caso di enfatizzare ad esempio se abbiamo un po di rughine qui le famose zampe di gallina e ci andiamo ad applicare sopra l'illuminante rischiamo di renderle ancora più evidenti quindi di concentrare l'attenzione su di esse e ovviamente questa è una cosa che non vogliamo perché invece di ottenere un risultato bello estetico luminoso lucente andiamo ad enfatizzare quindi andiamo a far cadere l'occhio su quello che è un difetto un altro elemento che deve frenare un pochino l'uso dell'illuminante è il tipo di pelle la pelle grassa o comunque a tendenza grassa non vuole troppo illuminante perché la differenza tra pelle illuminata quindi luminosa e lucida è veramente sottile in questi casi quindi chi soffre di pelle grassa tende naturalmente ad avere una pelle abbastanza lucida se andiamo ad esagerare anche con l'illuminante rischiamo di accentuare ancora di più questa cosa quindi anche in questo caso bisogna darci un po' a coi piedi di piombo per quanto riguarda la forma del viso è meglio non insistere tanto con l'illuminante in quelle zone per esempio abbastanza spiegolose quindi se abbiamo dei tempie molto sporgenti non dovremo andare a mettere molto illuminante così come per esempio se abbiamo un naso piuttosto appuntito non dobbiamo andare a mettere troppo illuminante se abbiamo uno zigomo molto pronunciato possiamo sì andare a mettere l'illuminante perché andrà comunque ad accentuare appunto questo zigomo bello alto ma se andiamo ad esagerare sembrerà sporgere eccessivamente quasi effetto lifting quindi ci sono delle considerazioni che vanno fatte bisogna un attimo studiare quello che è il proprio viso e in base a questo puoi vedere dove poterlo posizionare e poi molto importante anche vedere il tipo di illuminante che andiamo a scegliere perché ad esempio ci sono illuminanti in polvere che sono abbastanza fitti quindi ad esempio un illuminante del genere quando lo andiamo a stendere sulla mano si vede tantissimo quindi va usato in piccolissime dosi e soprattutto deve essere ben sfumato altrimenti fa chiazza ci sono poi illuminanti sempre in polvere ma più sottili e già si accorge quando lo si va a toccare perché è molto più impalpabile e anche stendendolo è proprio molto più delicato come effetto così come poi ci sono gli illuminanti ad esempio in stick che sono super sottili sulla pelle ma che tendono a durare un pochino meno perché non possono essere fissati con la cipria in quanto poi andremo a spegnere l'effetto appunto illuminante quindi dovrà essere utilizzato così insomma come lo mettiamo mandalo a sfumare appena appena però appunto senza essere settato però anche questi qua sono molto molto pratici soprattutto poi se magari dobbiamo metterlo in borsa dobbiamo ripassarlo al volo è molto molto pratico su questo lato andrò ad utilizzare un illuminante un pochino più massiccio da quell'altra parte invece andrò ad utilizzare quest'altro che è più sottile così vediamo bene la differenza lo si può andare a prelevare con il dito così come con un pennello specifico non dovrà essere eccessivamente grande va bene uno di questi a sfumatura l'importante è che abbia le sedole abbastanza larghe quindi non troppo ravvicinate perché andrà a fare facilmente chiazza se lo andiamo ad utilizzare bello impregnato di prodotto o tutt'al più si può anche utilizzare uno sfumino da ombretto sempre che sia abbastanza largo vado quindi a prelevare un pochino di prodotto ripeto senza eccetera perché questi sono molto molto colorati e nel mio caso lo vado a mettere qui nell'angolo esterno per andare ad enfatizzare lo zigomo in questo caso si avrà un risultato abbastanza leggero quindi se vogliamo un effetto leggero con questo tipo di illuminanti andiamo a prelevare con un pennellino così da sfumatura e appunto lo sfumiamo molto bene non dobbiamo arrivare troppo in avanti con l'illuminante ma localizzarlo soltanto in questa zona esterna quindi in modo che vada a creare ancora più volume in questa zona la differenza facendolo con il dito è sostanziale quindi vado a prenderne un pochino e in questo caso invece di trascinarlo come ho fatto col pennello lo vado proprio a picchiettare picchiettandolo sarà molto più evidente rispetto all'altro caso ma anche in questo caso va comunque picchiettato molto bene sfumandolo bene altrimenti lascia si vede insomma la sditata sul viso quindi lo andiamo a picchiettare e a sfumare bene quindi anche già da questo si vede la differenza di intensità da quest'altra parte sempre con il dito vado ad applicare quest'altro prodotto più sottile che dà un effetto super super luminoso ma leggero diciamo che in questo caso che vogliamo andare ad insistere un pochino dovremmo fare più passate però l'importante è modularlo sempre un pochino alla volta perché se andiamo a caricare subito rischiamo di fare alone e per quanto poi possiamo andarla a sfumare sarà molto difficile ottenere un effetto naturale diciamo come posizioni io adoro sempre andarla a mettere appunto nella parte alta dello zigomo quindi per andare un po' a creare questo effetto liftato un pochino anche qui sotto l'arcata sovraccigliare e poi sfumo bene perché dà prominenza anche all'arcata e in caso di nasi appunto non troppo sporgenti lo vado a mettere anche un pochino qui sulla punta proprio appena appena così va a dare proprio un piccolo punto luce ma senza eccedere mi piace moltissimo anche metterlo sull'arco di pupito per andare ad illuminare anche questa zona ma sempre in maniera leggera perché anche qui nel caso abbiamo per esempio un po' l'alone del baffetto o le labbra iniziano ad essere un pochino meno turgite se andiamo ad insistere tanto qui rischiamo di andare a puntare l'attenzione su questo piccolo difetto quindi anche qui un po' di pazzimonia quindi diciamo che questi sono i punti strategici quindi sotto l'arco sovraccigliare un pochino sullo zigomo verso l'esterno, punta del naso e arco di pupito mi ripeto nuovamente perché non voglio che poi magari ci si trucchi e ci si senta il disagio sopra lo zigomo ok ma mai arrivare troppo alle zampe di gallina perché il rischio se no poi come ho già detto è quello di esagerarle quindi di metterle ancora più in risalto e poi mi raccomando anche di non andare troppo qui sullo zigomo sulla guancia uno perché appunto sarebbe un effetto innaturale e poi perché soprattutto per chi ha la pelle a tendenza grassa o comunque mista i pori, la grana della pelle qui è molto evidente e rischiamo di andarla a mostrare ancora più evidente quindi se abbiamo un pochino i pori dilatati si noteranno ancora di più, sembreranno ancora più dilatati quindi attenzione a questa cosa spero che questo video sia stato utile nel caso uno abbia un po' di difficoltà a capire dove andare a collocare l'illuminante bisogna stare attenti a un pochino di cose per avere comunque un bel risultato ma che sia comunque naturale e non vado a mostrare i difetti piuttosto che i pregi fammi sapere nei commenti se utilizzi abitualmente l'illuminante o se magari lo usi soltanto per occasioni speciali grazie come sempre per l'attenzione ci vediamo al prossimo video ciao